Il mio capitale è Vincenzo Piazza, presente qui a Castegnato, per me è stata una scopetta perché sono fissosa un mese, no? Qui presente a Castegnato da circa 130 anni, siamo qui presenti, per cui nessuno di voi era presente all'inizio, ecco, per cui dar benvenuto ai relatori che poi verranno presentati da Dottor Franzoni e a tutti i convenuti, i nostri concittadini di Castegnato, siamo contenti di ospitarli anche tra noi. La comunità ha conto con gioia perché è stata proposta la comunità, decido solo io, assieme abbiamo deciso con la comunità di accogliere con gioia e disponibilità alla richiesta del centro al cibo di Gasperi, di Castegnato, nella pressione del suo presidente e vicepresidente di poter tenere questa sera questa conferenza qui tra noi, nella nostra sede, di suori a riposo, o meglio, come diciamo noi, in istituto, nella categoria dei suori che pregano e offrono. Noi, ecco, le suori che vengono così inviate e che ospitiamo noi, nella nostra comunità, ne chiamiamo le suori che pregano e offrono. E poi ci sono le suori che servono. Per cui mi trovo io in questa comunità da cinque mesi, però l'ho percepito da subito quando sono arrivata che il convento, quanto il convento, così viene dedicato a istituzionasta, non era diventata sempre il convento, no? Ho vissuto in un'altra realtà. Ecco, la nostra realtà è presente sul territorio. Noi siamo considerati il convento, molto bello. Tra l'altro, una nota storica, la nostra prima casa, dove Bartolomea e Vincenza hanno dato inizio all'istituto, lo chiamano il conventino. Per cui siamo in sintonia con le origini, siamo in sintonia con le origini. Ecco, mi sono scorta che il convento sia oggetto di attenzione, di affetto e di profondo legame con la popolazione. E questo mi ha fatto tanto piacere, mi ha aperto il cuore, veramente. E però questo è un elemento, per me, da valorizzare, da custodire come possibilità di ricifroco arricchimento sul piano spirituale e sociale. Lo vedo anche, questo riconoscimento, no, questo legame, come un riconoscimento del valore della vita consacrata. Siamo nella vita consacrata. Sapra, papà, non ho avuto parlo francesico, no? Ecco, che nonostante i limiti fisici e psichici delle nostre sorelle, continua ad essere testimonianza di dono per la Chiesa e per l'umanità. Il nostro istituto da sempre si è preoccupato di circondare di dignità e di affetto le sue non le considera qualche cosa di marginale, ma sempre si è preoccupato. Ne è testimonianza che questa casa è stata aperta proprio per dare, ospitare le sue ore che avevano terminato o in corso di malattie di qualche cosa, la casa per, posso dirle, accompagnarle. La nostra regola di vita ci invita a considerare l'inattività fisica, la vecchiaia, come tempo fecondo nel mistero della Chiesa e nella missione dell'istituto e a guardare alla vecchiaia come tempo prezioso che ci fa preciso all'intervità, però sempre appostolicamente attive nella preghiera, nella benevolenza e nella saggezza cristiana. Questo è quanto vedo, vado anch'io postatando ogni giorno in questa casa. Qui il carisma si fa dono concreto, in un servizio di missione, servizio missione. È uno scambio di attenzione mirante verso la persona che si sente accorta, gratificata nella ricchezza dei suoi anni donati precedentemente in attività caritative e anche ora disponibile con la ricchezza di un sorriso, la gratuità di piccole prestazioni a ricambiare cure e attenzioni al proprio disagio fisico. Tutto questo mi fa dire, mi ha fatto pensare, pensando che stasera, ma pensando anche quanto sto vivendo da questo primo mese, che l'anziano è una risorsa. Ecco, si parla di risorsa o di peso, no, l'anziano è una risorsa, sia per la chiesa che per la società. Non voglio rubare gli argomenti a padre. Ora lascio la parola ai relatori, auguro a tutti un buon ascolto, nella certezza che la persona dell'anziano venga ulteriormente valorizzata. Con il grazie sentito, l'auspicio che il convento continua ad essere centro e cuore per le vostre attenzioni. Grazie. Devo dire che personalmente sono debitore di padre Russo Gendi per due notizie. Il primo per aver accettato, nonostante i suoi numerosi impegni di carattere pastorale ed istituzionale, ad essere tra noi questa sera. Una conoscenza casuale che nasce a Dozzolo, dove c'eravamo recati come centro dei gasperi per un convegno sulla figura di Don Primo Mazzolari. Il secondo, il titolo del ciclo dei nostri incontri, Invecchiare in salute e dignità, è stato mutuato da un convegno e da lui organizzato a Schivenoglia, Mantua, suo paese natale nel maggio del 2014. Mi aveva colpito il titolo del convegno, che in poche parole era un programma. L'anziano è innanzitutto una persona, che molto può ancora dare alla società. Rimuovere la rappresentazione negativa della vecchiaia è pertanto un impegno culturale e educativo che deve vedere impegnate tutte le generazioni. Vi è una responsabilità verso gli anziani di oggi, che vanno aiutati a cogliere il senso della loro età, sconfiggendo la rassegnazione a un sentimento di inutilità. Esiste una responsabilità verso le generazioni future, quello di preparare un contesto umano, sociale e spirituale, nel quale ogni persona possa vivere con dignità e pienezza questa tappa della vita. Il tema che stiamo affrontando è quanto mai attuale, che coinvolge un numero sempre più ampio di persone che, come afferma Papa Francesco, la nostra cultura di scarto, dello scarto, erroneamente spesso relega ai margini o alle periferie del vissuto sociale. San Paolo nella lettera ai Corinzi scrive, per questo non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno, e questo è l'aiuto della fede. Padre Augusto Kendi ha una dimensione umana straordinaria e persona molto preparata. Viene dalla scuola del Cardinale Prima e poi Papa Benedetto XVI Ratzinger, del quale è stato collaboratore per 16 anni. Attualmente ricopre l'incarico di Vice Ministro della Sanità della Città del Vaticano, un gergo, direi, proprio ecclesiale e sottosegretario del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari in Città del Vaticano. Il dibattito questa sera non ci saranno due relazioni distinte, ma i relatori, d'accordo fra di loro, si porranno le domande alternativamente, quindi ci sarà un dialogo tra i due relatori per poi dare la possibilità al pubblico di porre delle domande. Io introduco anche l'altro aspetto che riguarda il Dottor Walter Montini. Nel 2015 il numero della popolazione sopra i 65 anni dovrebbe essere coinciso in pieno con quelli della popolazione giovane tra i 15 e i 34 anni, pari a circa 12 milioni di persone nel nostro Paese. E questo va in controtendenza rispetto alla storia dove i giovani erano in numero maggiore rispetto agli anziani. Ciò è dovuto a minore natalità, nascono meno bambini, maggiore longevità, cioè l'inalzamento della speranza di vita e la riduzione del tasso di mortalità. Questo pone problemi nuovi dal punto di vista del welfare e in prospettiva ai sistemi sanitari che dovranno fornire un'assistenza adeguata garantendo nel contempo la sostenibilità finanziaria. Con il Dottor Walter Montini, già senatore di Cremona, ci conosciamo da alcuni anni perché collabora da tempo con il Centro dei Gas per il Picastignato, è persona molto attiva e culturalmente impegnato ancora in provincia di Cremona. Attualmente è presidente dell'ARSAT di Cremona, associazione che raggruppa 27 RSA pubbliche e private della provincia di Cremona, nonché vicepresidente della RSA di Isola Dovarese. Quindi il tema che lui poi che affronteranno saranno appunto l'anziano nella società di oggi, costo o risorsa. Lascio la parola a voi. Grazie della vostra ospitalità, grazie alle parole del Dottor Franzoni che appunto abbiamo conosciuto in un modo fortuito a Bozzolo, ma da quel momento con una foto o due scattate con il gruppo che rappresenta anche il Presidente, ha costituito il nucleo duro di questa amicizia che mi auguro vada consolidare i dossi. Grazie alla comunità delle suore, grazie a tutti quanti voi. Senza perderci in lungaggini, credo che la prima domanda che io come sacerdote, come religioso pongo al Dottor Montini, Walter, lo chiamo Walter perché siamo amici da lunga data, è questa. nel mondo di oggi è la riproposizione del tema che gli è stato affidato, l'anziano nella nostra società è un costo o una risorsa. In questo crinale che cosa possiamo rispondere? al nostro Dottor Montini la risposta. Io salto i ringraziamenti e vengo subito a rispondere alla domanda di Padre Candy. Mi sentite? Credo che non siano necessari i particolari studi di sociologia per rappresentare la condizione degli anziani nella società attuale. Li abbiamo con noi tutti i giorni, li abbiamo accanto, viviamo con loro, li sfruttiamo per quello che possono ancora dare, per cui la condizione degli anziani ci è nota senza bisogno di grandi studi. Mi limito a ricordare qualche dato statistico che già Franco nella sua introduzione ha citato. Bisogna partire da questi, sarò molto breve, per capire esattamente non soltanto la condizione attuale che noi viviamo, ma anche la prospettiva, perché i dati ci servono per capire cosa possiamo fare. L'Italia è il paese con il maggior numero di anziani, secondo i dati del rapporto dell'Eurostat, il 21,4% della popolazione italiana ha più di 65 anni, ben al di sopra della media europea che è del 18,5. È un primato che si conferma anche per l'età più avanzata, io dico oltre il 65 ma anche per gli anni successivi. Si tratta di un fatto epocale che ha degli impatti di natura sociale, di natura economica, di natura sanitaria senza precedenti. Non abbiamo mai avuto una situazione del Cesare. L'invecchiamento, come diceva Franco, della popolazione è un fenomeno caratterizzato da due aspetti. Da un lato rappresenta una conquista dell'umanità perché grazie al progresso e alla medicina le persone vivono molto più a lungo, però dall'altra parte rappresenta un fattore critico, una criticità per le implicazioni che ne derivano sui diversi aspetti dalla vita sociale. dobbiamo prepararci, se è un evento epocale, dobbiamo prepararci a vivere questo evento non come una emergenza sociale dell'oggi, ma sarà un evento che ci accompagnerà per i prossimi anni. Dobbiamo essere preparati per governare questa dinamica dell'evoluzione della nostra popolazione attraverso interventi di natura sanitaria, ambientale, lavorativa, sociale. Trabucchi nel precedente incontro, ve l'ha detto bene, conosco Trabucchi, invecchiare non è una malattia, l'avevamo inventato tanti anni fa quando aveva fatto un rapporto sulla situazione sanitaria del Paese e bene ha fatto secondo me il centro De Gasperi a organizzare questa serie di incontri. Aggiungo ancora qualche dato perché non viviamo soltanto in Italia ma viviamo in una regione Lombardia e quindi alcuni dati che riguardano la regione Lombardia bisogna darli. Gli ultra 65 anni oggi in Lombardia sono il 25%, sono il 25% della popolazione, a Cremona per esempio sono il 44%, il 44% della popolazione di Cremona pare che a Senna Mantua sia una delle province più vecchie, è il 44%. Il livello e il rapporto tra anziani e occupati, perché gli anziani bisogna pagare le pensioni e quelli che lavorano pagano i contributi per pagare le pensioni. Ecco, è passato dal 34% nel 2010 e passerà al 40% nel 2020 tenuto conto della riduzione del tasso di natalità. L'allungamento della vita, ve l'ho detto, in buone condizioni di efficienza fisica e psichica per i progressi della scienza pone a monte dei problemi, di riconsiderare la definizione dell'anziano. Veniamo alla domanda che padre Augusto mi ha fatto. I dati che vi ho dato, che vi ho esposto in qualche modo rispondono alla domanda che ci vogliamo stasera. L'anziano è un costo o una risorsa? Potremmo dire il bicchiere è mezzo vuoto o è mezzo pieno? E la risposta è che l'anziano è un costo e è una risorsa. È una risorsa sul piano sociale, versano ancora i contributi, gli anziani dalla propria pensione viene detrato qualcosa, quindi versano i contributi a favore della comunità. Sono preziosi, sono una risorsa in ambito familiare, quante famiglie si affidano ai figli oppure ai nipoti alla cura degli anziani, mettono a disposizione dei figli e nipoti e parenti. È una risorsa culturale, di saggezza, di vita, di esperienza. È vero, è una risorsa, ma è anche un costo. È un costo per il sistema pensionistico che non riesce con i disoccupati a pagare e a raggiungere e a riequilibrare le entrate che diminuiscono rispetto alle uscite che aumentano. È un costo per il servizio sanitario perché l'anziano, prolungando la vita, richiede nuove forme di assistenza, nuovi interventi sanitari. Io porto sempre l'esperienza mia. Mentre una volta si andava nelle case di riposo, nelle RSA a 80, 75, 80 anni, in attesa appunto della morte, per cui c'era una prospettiva ancora avanti di una decina d'anni, oggi vedo che nelle case di riposo di Cremona arrivano a 90-91 anni. Quindi l'attesa della vita delle case di riposo per l'anziano è di sei mesi, massimo un anno. Questo che cosa significa? Significa che le case di riposo devono offrire un'assistenza diversa rispetto a prima, perché mentre prima arrivavano, che erano autosufficienti eccetera e aspettavano la morte, parliamoci chiaro, c'era la famiglia, aspettavano, adesso invece arrivano ormai verso la fine e quindi questo richiede un'assistenza diversa, un'assistenza sanitaria diversa, non c'è niente da fare. Io sono Presidente di 29, perché nel frattempo sono un mentale, 29 case di riposo su 30, mi mancano soltanto le suore adoratrici di Rivolta d'Adda e poi le ho tutte e quindi visito tutte le case di riposo, sono abbastanza consapevole dei problemi e vivo proprio sul territorio, ma questa è una realtà. Allora è un costo sul piano pensionistico, è un costo per il servizio sanitario e anche un costo sullo stato sociale. È comunque un costo inferiore rispetto, e qui chiudo, è comunque un costo inferiore rispetto all'ospedale. Faccio un esempio, perché queste cose io le ho detto anche all'assessore in regione e mi ha dato ragione. Un anziano alla comunità, diciamo, ricoverato in una casa di riposo, costa 100 euro al giorno, questo è il costo meglio, 50 lo mette lui perché c'è la retta e 50 te la dà la regione. Un anziano in un ospedale costa 750 euro, ecco perché io dico questo a media, logicamente se io e padre Augusto andiamo in ospedale e lui viene operato, la sua operazione costa 20 mila euro, a me fanno soltanto le analisi e spendo 200, la media è 10 mila euro ciascuno, tanto per essere chiaro. Però il costo medio di un'assistenza in ospedale, per giovane e vecchio non faccio distinzione, è di 750 euro. Il costo di un anziano in una casa di riposo, dove per esempio dalla mia casa di riposo pagano 53 euro al giorno gli anziani e quindi sono già 1500-1600 euro al mese, costa 100. Ecco questo per dire che non dobbiamo tanto dormire sugli allori eccetera. I costi ci sono, l'anziano eh sì, un costo e vi ho detto anche come, è però una grandissima risorsa e su questo vorrei adesso fare io una domanda padre Augusto. Nella storia della Chiesa, della società, lo specifico, la presenza del mondo cattolico in questo settore assistenziale, nella realtà assistenziale è sempre stata di primaria importanza, è sempre stata preziosa, inutile nascostarsi che la Chiesa è sempre stata all'avanguardia nel offrire servizi ai bisognosi, alla persona fragile eccetera. Questo lo è ancora nella società attuale, punto di domanda, mi spiego meglio. Nello stato sociale, dove è compresa anche la Chiesa, la Chiesa, che concezione ha dell'anziano? Ci sono documenti, azioni, prospettive, cioè la missione nella Chiesa e nel mondo dell'anziano? Beh, certo che la Chiesa l'ha sempre preso in considerazione la situazione dell'anzianità, ma a maggior ragione oggi ci sono situazioni, come abbiamo sentito anche dal punto di vista numerico che impegnano la Chiesa su questo fronte, forse più che in passato. Dal punto di vista della produzione del Magistero della Chiesa, la Chiesa si è impegnata su questo fronte a più riprese. Mi sono permesso di riportare qui, ve l'enuncio, delle prese di posizione che alcuni vescovi, conferenze episcopali, ma soprattutto il Santo Padre e i diversi uffici della Santa Sede hanno prodotto su questo argomento, cioè della situazione degli anziani. Già Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, scrisse nel suo messaggio alla Seconda Assemblea Mondiale sui problemi dell'invecchiamento della popolazione già nel 1982 e poi nel 99 scrisse la lettera agli anziani e in diversi discorsi pontifici con insistenza ritornava su questa situazione e sappiamo quanto questa stesse a cuore al Santo Padre perché lui stesso ha esibito il proprio corpo martoriato e ormai debilitato dall'anzianità senza nessun velo e senza nessuna vergogna, quindi proponendo se stesso come la prima icona di questa situazione dell'anziano. Ma anche il Pontificio Consiglio per i laici scrisse nel 1998 un documento sulla dignità dell'anziano e la sua missione nella Chiesa e nel mondo, come oggi viene riproposto nella nostra conferenza. Inoltre il Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, del quale io sono il sottosegretario, negli anni, soltanto da 4 anni, sono sottosegretario, nelle sue 30 conferenze internazionali che ha svolto nei 30 anni di presenza nella Santa Sesi, ben 5 di queste conferenze sono state dedicate agli anziani e all'invecchiamento. Nel 1998 longevità e qualità della vita. Nell'88, 10 anni dopo, nel 1998 la Chiesa e la persona anziana, le cure palliative nel 2005 e poi avrò modo anche di chiedere a Walter qual è l'impatto etico-morale di alcune prestazioni che devono essere fatte nei confronti della persona anziana, come nel caso l'accesso alle cure palliative e ad altre metodiche particolari, soprattutto per far fronte alle gravi deficienze neurodegenerative o anche dei dolori e quant'altro. Nel 2007 ancora la pastorale nella cura dei malati anziani e recentemente nel 2013 la Chiesa al servizio della persona anziana malata la cura delle persone affette da patologie neurodegenerative. Vediamo quindi come la Chiesa sempre abbia avuto a cuore questa problematica e al tempo stesso un'attenzione non soltanto dal punto di vista concettuale ma anche dal punto di vista pratico. Se io guardo alle realtà che sono afferenti al Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, cioè più di 120.000 strutture divise nel mondo, molte di queste si dedicano alle persone anziane, ma al di là dei numeri, al di là della quantità che potremmo sciorinare per dire noi siamo meglio degli altri, io credo che il servizio che oggi la Chiesa è chiamata a svolgere per le persone anziane sia proprio il servizio della qualità dei servizi che devono essere date a queste persone, qualità. Se noi guardiamo la storia della Chiesa, le strutture ecclesiastiche, soprattutto dei religiosi, sono un camigliano quindi ho vissuto in prima persona questa situazione, le strutture della Chiesa sono state le prime che si sono prese a cuore la situazione dei malati di AIDS e quindi dopo la Chiesa, che ha fatto un po' da traino, si sono adeguate anche le strutture sociali e le politiche sanitarie conseguenti. Credo che la stessa cosa dovremmo fare, dobbiamo fare anche noi oggi, una qualità nel servizio della persona anziana ed essere quindi da modello, da traino perché la società, le strutture politiche, le strutture sociali pensino che l'anziano con tutti i suoi problemi non è soltanto un costo e quindi qualche cosa da relegare in una quantificazione e quindi laddove il rosso, le entrate sono inferiori alle uscite, dobbiamo metterle in disparte o trovare delle soluzioni accomodanti. Parlo dell'eutanasia che ormai in molti paesi in Europa sta prendendo piede, ma dobbiamo puntare ad una qualità dell'assistenza. Pensiamo in questo caso quanto dobbiamo impegnarci affinché le persone anziane che se in passato andavano, come ricordava Walter, in una casa di riposo perché non potevano più deambulare oppure rimanevano soltanto pochi mesi prima di terminare il loro cammino terreno, oggi come oggi ci troviamo delle persone meno anziane anche, ma che con le patologie neurodegenerative, Alzheimer, demenze semili o giovanili al Parkinson hanno bisogno di una qualità di assistenza diversa. Ora qui secondo me dobbiamo puntare ad una qualità dell'assistenza che salvaguardi sempre e comunque la dignità della persona anziana, dignità della persona anziana, non quindi qualche cosa sul quale possiamo giocare dal punto di vista finanziario, anche se questi problemi abbiamo sentito da Walter non sono indifferenti, ma al di là di questo salvaguardare sempre e comunque la dignità di queste persone e la salvaguardia di questa dignità noi la approntiamo laddove l'assistenza sanitaria di tutte le figure professionali può diventare veramente il modello per la società civile, per la progettazione economica, per uno Stato che tiene al proprio centro la persona anziana, non come un peso ma con una dignità che viene, come dicevo prima, salvaguardata e promossa. Questa assistenza poi non è soltanto delle strutture sociosanitarie, quindi delle figure professionali che ruotano attorno a queste stesse strutture, è incomiabilissime, ma non possiamo mai dimenticare che la dignità della persona anziana trova il suo nucleo fondamentale sorgivo nella famiglia. La famiglia a mio giudizio non può essere soltanto un ricettacolo dove il quantum ha la priorità, ma dove la qualità delle persone sempre deve avere il primo posto. Quindi dobbiamo recuperare, che stiamo celebrando, sono le ultime ore del sinodo sulla famiglia. Forse nei riflettori del mondo, i riflettori del mondo ci hanno catalizzato un po' troppo, a mio avviso, sulla comunione sì, comunione no, divorziati, risposati, riconoscimento o meno delle coppie omosessuali, ad adozione o meno di figli da parte di queste stesse coppie omosessuali, lesbiche e quant'altro. Il sinodo sulla famiglia dovrebbe farci recuperare il senso fondamentale della famiglia, che è composto di persone che si amano, che si compensano reciprocamente e che anche sono capaci di accogliere nel proprio seno o riconsiderare nel proprio seno la persona ormai anziana debilitata, relegando all'assistenza sociosanitaria la situazione che è impossibile da gestire a casa o quantomeno trovare una compensazione reciproca fra famiglia e strutture nel territorio. Soltanto così la persona anziana, a mio avviso, può essere riconosciuta nella sua dignità e può sentirsi accolta, non come un materiale di scarto, come dice sovente Papa Francesco, relegato ai margini non soltanto della nostra vita, ma ancora più ai margini dei nostri affetti e fondamentalmente degradata nella sua dignità. Quindi credo che la Chiesa in questo volgere di stagione molto promettente, pur con tutti i problemi che ha, debba puntare soprattutto sulla situazione della persona anziana con servizi adeguati, con una qualità di assistenza, tanto da essere testimone soprattutto per il mondo politico e economico, affinché l'anziano non venga mai meno o misconosciuto nella sua profonda e imperturbabile dignità. E in questo credo che la famiglia giochi un ruolo fondamentale, non derogando allo Stato, alle strutture sociosanitarie, ciò che invece compete da sempre a lei come primo custode di ogni situazione di vita in tutto l'arco dell'esistenza, dal suo sorgere fino alla sua naturale conclusione. E adesso ripropongo una domanda che era abbastanza, faccio io adesso la domanda, che era velata prima e alla quale facevo accenno, cioè secondo l'esperienza tua Walter che hai ormai un bacino di utenza abbastanza ampio, quali sono i principali problemi per un corretto approccio alla situazione della vecchiaia e quali sono anche, a ampio questa domanda, i problemi etici, morali che oggi anche gli operatori delle politiche sanitarie, oltre che agli operatori, devono affrontare. Prima di rispondere alla tua domanda volevo dire, assicurare, non ci siamo messi da poco, nel senso che, sono contento che siamo in perfetta sintonia, o è la Chiesa che comincia ad essere un po' laica, oppure sono i laici che cominciano un po', però no, veramente sono contento perché avevamo ipotizzato il giorno, vedendo che abbiamo ipotizzato, guarda facciamo questo, senza star lì a dire tu parli mezz'ora, io parlo mezz'ora che poi la gente si stanca e vedo che comunque nel proseguire il nostro incontro siamo in perfetta sintonia, speriamo di esserla anche in questa risposta e alla fine in questa risposta a questa tua domanda che mi dici il corretto approccio che bisogna avere con i vecchi, parliamoci chiaro, noi continuiamo a dire anziani, siamo un po' con gli anziani, con le persone vecchie insomma. Certamente anche la società laica nel suo complesso è impegnata a dare delle risposte ai problemi degli anziani, attraverso le case di riposo, le RSA, attraverso le fondazioni, ripeto io, coordino 29 casi di riposo, ce n'è una più bella dell'altra, sia dove c'è il personale religioso, sia dove non c'è il personale religioso, conosco anche gli ospedali, certamente dove c'è il personale religioso c'è qualcosa in più, questo è vero, però devo dire che la società è attenta, sia società religiosa che quella laica, è attenta ai problemi dagli anziani, poi ci sono alcune sono ancora le vecchie IPA, gli istituti di assistenza dell'efficienza, altre sono fondazioni, alcune sono private, alcune sono miste, eccetera, comunque indipendentemente da questo credo che un'attenzione al fragile, non chiamiamoli le vecchie né anziani, insomma alle fragilità ci sia, da parte delle istituzioni, da parte anche del mondo del volontariato, certamente come dicevo prima, i modelli di approccio all'anziano oggi vanno rivisti e aggiornati, non sono più quelli di una volta e non possono più essere quelli di una volta, poi l'anziano che arriva in casa di riposo dare la pastiglia alla sera prima di andare a letto, poi si dorme, punto e basta, occorre essere più attenti anche ai problemi che citava padre Augusto, che forse alcuni anni fa non c'erano ma che oggi invece sono i problemi del futuro, la demenza è un problema, domani io ho questo convegno, ho questo convegno che ho organizzato a Cremona sulle persone anziane con demenza avanzata, quale medicina e lo affrontiamo sul piano sanitario, sul piano della pratica e sul piano etico, c'è Don Maurizio Lucini che verrà a illustrare le dimensioni spirituali e la ricerca di significato come risorsa delle fasi finali della vita, ma c'è un problema sul quale vorrei dare una risposta se è possibile, la situazione economica e sociale è cambiata, le tipologie dell'anziano è cambiata, quindi vanno date risposte diverse sul piano sociale, ma sul piano familiare, ha ragione padre Augusto, io sono preoccupato, ma non tanto dell'anziano dell'esito che può avere il sinodo o dei temi che il sinodo affronta che sono temi importanti eccetera, ma io sono già preoccupato adesso, l'anziano, già adesso l'anziano non ha più la famiglia, la famiglia non verrà certamente consolidata o disintegrata in base all'anziano dell'esito del sinodo, la famiglia è già scretolata, la famiglia non esiste più, noi eravamo in sette fratelli, ma quando è morta mia mamma due anni fa facevamo i turni per andare, per stare, per persisterla eccetera, oggi chi è che fa queste cose? Ma non perché non si abbia la volontà, ma perché non esiste più la famiglia, perché due decidono di andare a vivere insieme, un ragazzo e una ragazza, quindi non parlo di coppie di fatto di unioni civili, ma decidono di andare a vivere insieme, logicamente escono da casa, rompono con la famiglia e poi se i genitori di una o i genitori dell'altro stanno male eccetera, questo qua è un problema secondario, io sono veramente preoccupato di questo, perché avrà delle repercussioni anche sulla gestione dell'RSA, delle gestioni interne perché tu devi garantire all'anziano però non hai un sostegno da parte della famiglia, questo richiede delle nuove competenze di approccio, delle nuove figure professionali, investimenti nuovi, investimenti da soldi, investimenti nella formazione di nuove risorse, nella riorganizzazione dei sistemi assistenziali e se noi andiamo avanti avremo poi nelle case di riposo gli estracomunitari perché quelli che sono insediati qui diventeranno vecchi anche loro, avranno anche loro dei problemi, allora tu non potrai più fare da mangiare quello che fai da mangiare per tutti perché loro non mangiano la carne, c'è tutta una tematica che verrà avanti e che chiede alle strutture sia religiose, sia istituzionali, laiche eccetera di prepararsi a queste. Ma guardate che il discorso della famiglia, e non entro nel merito perché potremmo anche non andato d'accordo io e padre Augusto, il discorso della famiglia scretolata, non che si scretola, della famiglia scretolata è un discorso pesantissimo nei confronti dell'anziano. La persona ospite al centro, io l'avevo, mi ero appuntato questo, l'ha detto padre Augusto e sono perfettamente d'accordo, la debietà della persona questa è così, la persona è al centro dell'attenzione nelle strutture, questo per essere al servizio di, non tanto per fornire un servizio a, sono capaci tutti, deleghi a una società esterna di farla mangiare e questa fa un servizio e ti porta da mangiare, il problema invece è essere al servizio di una persona, essere al servizio e quindi porla al centro della nostra attenzione, per fornire appunto un sostegno oltre che fisico e sanitario, anche etico, morale e sociale dell'ospite coinvolgendo le strutture. È un po' la filosofia che ha la nostra regione Lombardia adesso, cerca di con una nuova legge, cerca di aprire le strutture all'esterno, gli ospedali all'esterno, assistenza domiciliare a casa e quindi non più ricovero eccetera. E' un tentativo di cercare di allargare sul territorio una diversità di offerte e di servizio, sia di carattere sociale che di carattere religioso. Io sono perfettamente d'accordo su questa impostazione al punto che ho già fatto due convegni, uno il 13 giugno e uno lo farò domani per esaminare le problematiche di fine e di fine vita. Vi faccio un esempio più banale, le misure di contenzione, quando un anziano bisogna mettere le sbarre perché altrimenti crea problemi. Chi è che le mette? Se le mette senza chiedere all'anziano, ma l'anziano non capisce più niente quindi è d'utile che tu glielo chieda, la famiglia non c'è, ce lo mette te, di notte l'anziano le toglie assate eccetera eccetera, vai nei guai che non puoi più, che non puoi nemmeno immaginarti. Ad alcune case di riposo adesso stanno arrivando stanno arrivando dalle multie da parte delle assicurazioni perché l'anziano è caduto e dice che dove era l'assistente che accompagnava l'anziano e l'anziano è caduto, si è fatto male quindi questo rinuncia a fare le assicurazioni. Ci sono tutti questi problemi che devono essere affrontati e io li affronto sul piano pratico, sul piano teologico, spirituale, padre Augusto è molto più attento, è più addentro di me. Però sono contento che siamo sulla stessa lunghezza, sulla stessa sintonia. Però padre Augusto qui siamo alle porte di un giubileo, l'8 giugno del giubileo, perché a me piacciono molto le parole, la lettera agli anziani dei pontifici, mi piacciono molto eccetera, poi alla fine del mese non voglio essere laico fino in fondo, si tira la riga, sai, ma sei bustato, 3.000 euro, ti ha mandato 1.000 euro, io 3.000 euro e 2.000 euro. Ma questo è una cosa, brutta viso la situazione per arrivare alla concezione iniziale che è un costo e anche una risorsa. Noi siamo alle porte di un giubileo straordinario della misericordia, credo che ci siano anche degli spazi per quanto riguarda affrontare la tematica degli anziani. Ecco, nelle iniziative varie che tu stai progettando come pontificio consiglio, c'è spazio, ci sono spazi per gli anziani, non solo per farli venire a Roma, per pregare eccetera, ma ci sono spazi oppure andiamo avanti così. A livello ufficiale ci sono due iniziative volute dal Santo Padre, una è dedicata in particolare alle persone ammalate e alle persone disabili e questo sarà l'11 di giugno, sarà una giornata mondiale per queste persone. Credo che in questa occasione qui il Santo Padre avrà parole abbastanza forti e anche dure, come lui è capace di fare, proprio per denunciare anche situazioni che purtroppo si verificano non soltanto a Roma, ma in tantissime famiglie e anche in paesi lontani da noi, perché non abbiamo idea di quanto le legislazioni stanno facendo in certi paesi, perché appunto la spesa sanitaria nazionale, il peso sanitario per le persone anziane sta veramente sfondando ogni limite e quindi si cerca in tutti i modi di trovare una soluzione. Pensiamo che in Olanda e in Belgio addirittura si chiede non soltanto l'eutanasia per le persone che sono dementi o che sono incoscienti, quindi pensiamo soltanto alla quantità di persone che sono affette da demenza senile o che hanno gravissime forme di Parkinson oppure che hanno altre patologie come la sclerosi a flacche e quant'altro, ma addirittura si chiede l'eutanasia per i bambini disabili. Quindi pensiamo che i campi di Mauthausen non sono soltanto un ricordo dei libri di primolevi, ma sono una realtà che bussa le porte delle nostre società oggi e quindi credo che il Santo Padre in questa occasione avrà una parola molto forte. D'altra parte la Chiesa non può fare altro che essere testimone con la propria voce per dar voce a chi purtroppo o questa voce non ha o questa voce viene soffocata e sull'altro versante nel 4 settembre in occasione, come si vocifera ma è un dato di fatto, in occasione anche della canonizzazione della Beata Madre Teresa di Calcutta, lì il Papa ha voluto una celebrazione particolare per gli operatori e i volontari della misericordia. Credo che queste due iniziative, se da una parte mettono l'anziano, la persona disabile e la persona malata al primo posto, dall'altra parte non possiamo mai dimenticare che accanto a queste persone c'è sempre un'altra persona di sostegno, quindi se come dicevo prima la famiglia è questo crogiuolo di affetti che mai possono venire meno anche alla persona anziana, pensiamo che un grandissimo apporto alla società e anche nella Chiesa per i valori che questo comporta è determinato dal volontariato. Io stamattina ero a Manto e parlavo del ruolo della donazione degli organi, delle cellule e dei tessuti all'insegna del dono e credo che l'Aido, l'Avis e tutte queste associazioni per la donazione del midollo e quant'altro offrano veramente alla società linfa nuova per recuperare quei valori molte volte disattesi o che abbiamo dimenticato o che a volte, proprio come diceva Walter Pocanzi, per lo sgrattolamento della famiglia non siamo capaci di offrire, di transitare da una generazione all'altra. E allora io credo che il volontariato oggi come oggi possa essere questa risorsa anche all'interno della Chiesa per rimettere al primo posto, rimettere a fuoco questi valori che molte volte sono stati un po' obnubilati e credo comunque che la presenza di un anziano in una famiglia debba costituire questo nuovo patto intergenerazionale. Cosa hanno i nostri bambini, non dico i nostri figli perché io non ne ho, ho soltanto figli spirituali, che cosa hanno i nostri bambini dalla storia dei nostri vecchi? Pensiamo, non soltanto filastroche ma che cosa veniva veicolato anche a noi quando eravamo bambini, ricordo della guerra, queste persone che anche con mezza cipolla hanno vissuto, sono state insieme nonostante la povertà, la miseria, i travagli della vita, hanno subito lutti, oltraggi, sono stati insieme, il senso della fedeltà alla parola data, pensiamo cosa significava per i nostri vecchi la parola data, la fedeltà a una parola data anche nei compromessi contrattuali sulla terra o sui prodotti della terra. Oggi come oggi i ragazzi non capiscono neanche la fedeltà agli MSM, che non sono anche pronunciati, questi messaggini che transitano da un cellulare all'altro. Il senso della fedeltà, dell'onestà e quant'altro. Questo è il retaggio dei valori dei nostri vecchi, della persona anziana e che ormai ha maturato nella vita e che può transitare, offrire come eredità alle nuove generazioni attraverso quel sentimento, quel vissuto comune, quell'intrigo della vita che viene vissuta in ogni famiglia. Laddove viene meno l'anziano non c'è più questo apporto di ricchezza e quindi anche le nuove generazioni si trovano estremamente povere. E quindi dobbiamo ritrovare un po' questa freschezza di valori sia nella presenza degli anziani nelle nostre famiglie, laddove questo è possibile, o in ogni caso nella valorizzazione della presenza delle persone anziane nella nostra società, anche laddove queste persone sono in queste strutture di accoglienza, sociosanitarie, strutture protette. Ma al tempo stesso non possiamo mai dimenticare che il volontariato può oggi come oggi venire in soccorso a queste nostre deficienze della società attuale e quindi rimpolpare di questa linfa valoriale il nostro tessuto e quindi recuperare qui in questo modo questi valori che abbiamo un pochettino messo da parte e che fanno presa, ricordiamolo, più sui giovani che non sugli anziani, sulle persone mature. Quasi nei giovani, nei giovanissimi c'è questo imprinting che viene dato loro e che non dimenticano mai nella vita, se queste associazioni sono state capaci veramente di accoglierli, di farli parte di sé, di dare delle motivazioni vitali profonde per la loro adesione. E quindi credo che la scelta del Santo Padre per una giornata dedicata anche agli angeli custodi delle persone disabili e malati, come può essere accanto alla famiglia l'esperienza del volontariato, credo che questa sia stata una scelta vincente, molto indovinata e della quale anche la nostra società non deve non tener conto, anzi dovremmo recuperare anche nel nostro tessuto di paesi piccoli o meno piccoli queste ricchezze di carattere associativo come può essere anche l'associazione e il circolo dei Gasperi dal punto di vista culturale, cioè recuperare i valori attraverso queste strumentazioni culturali ma anche nel vissuto concreto di chi si fa vicino, prossimo alla persona anziana, alla persona disabile, chi è capace di donare parte di sé come nell'Aido, come nell'Avis a un altro sconosciuto gratuitamente. Sono strumentazioni credo che dovrebbero essere rivitalizzate e al tempo stesso anche non messe ai margini delle nostre attenzioni, anche se sappiamo che oggi l'associazionismo sta vivendo un momento di stanca, rimpolpiamo di valori, di entusiasmo queste esperienze perché secondo me queste esperienze meno istituzionalizzate hanno il sapore della vita, il gusto della vita che molte volte abbiamo perso o rischiamo di perdere. Grazie. 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 difficoltà di gente che non vuole più scrivere un biglietto, mettere sul francobollo, io sono andato a Parigi e ho mandato quattro cartoline ai miei amici, appena sono arrivato a casa e mi ha detto, ma come hai fatto a mandare le cartoline? Sono andato in un negozio, ho preso le cartoline, ho scritto e le ho mandato, ma non ci vanno più quelle cose lì, perché non c'è più la voglia di partecipare, di dire vado dentro in un negozio, compro la cartolina, me la cerco, vado in posta, prendo il francobollo, lo attacco, lo mando, che stai chiede di maldita se è mica normale, però la società è questa, dopo c'è quell'altro discorso che lei fa e dice, ma come mai gli anziani continuano a fare il volontariato e potrebbero far senza farlo in alcuni settori, perché così vanno avanti i giovani, e qui però dobbiamo mettersi d'accordo, il volontariato è volontariato, ci sono i giovani che fanno volontariato, ci sono gli anziani che fanno volontariato, io vedo in alcuni paesi che gli anziani, sono chiamati i nonni, vanno davanti alle scuole per far passare i bambini sulle strisce pedonali, a Roma soprattutto delle frazioni, però ragazzi così, tu dici, perché allora non si assume un ragazzo per fare queste cose qua, per far passare i bambini al mattino, ma il ragazzo costa e gli antilocali non hanno più i soldi per pagare, allora dobbiamo cercare di costruire in questa società un sistema che faccia in modo che gli anziani siano veramente una risorsa quando c'è la necessità, e ho detto anche perché sono una risorsa, e dall'altra parte che ci siano anche i giovani che lavorino, perché così almeno gli incominciano a prendere un po' di soldi che servono sempre per gli anziani. prego, in angolo. C'è parte di un'associazione di volontariato, e ci occupiamo proprio di servizio, di ascolto, di bucamento e di assistenza, perché sono una casa di risposto, purtroppo qui c'è stegnato, non abbiamo una casa di risposto, e i nostri anziani sono un po' distribuiti in tutto il territorio. Cioè, già da andare via dal proprio paese per un anziano ha una grande sofferenza, perché non vede più le facce che vedeva tutti i giorni, non ha più proprio perdere le proprie radici, ma quindi è una sofferenza in più per l'anziano che in una casa di risposto. Ciò che facciamo, noi cerchiamo di valorizzare tutti i momenti che in una casa di riposo sono morti, con un po' di calore umano, per esempio il momento dell'imboccamento, è un esempio molto importante, valorizzato, perché se abbiamo due persone che sono dipendenti dell'azienda e che devono fare anche l'imboccamento di altre sei persone, sicuramente non sarà un servizio fatto con qualità. Quindi esserci di conto del volontariato è questo, dare un supporto tradurito, ma per valorizzare i momenti belli, i momenti importanti, i momenti che non li accarezziamo, se riescono a parlare, li ascoltiamo, perché penso che l'ascolto sia uno dei momenti in cui viene proprio valorizzata la persona. Questa persona che in una casa di riposo potrebbe essere alzerata della dignità, trova una rinascita nell'ascolto, che dice chi era, cosa ha fatto. Anche solo parlando di calcio, che squadra occupavano, che partito erano. Questa persona è proprio un risforza. Poi secondo me è importante per noi associazioni, uno dei miei più grossi è quello di trovare proprio una contiguità, cioè trovare delle persone che una volta che noi abbiamo usato per motivi di salute il nostro buon ambito, possano sostituirsi in questi servizi. Io ritengo fondamentale che ci facci con questa signora Angela che è una catechista, una volta sono stato invitato nella sua classe per dare una testimonianza. E ho proposto a questi ragazzi di fare un servizio, di volontariati nella classe di riposo. E mi sono meravigliato, infatti, che i 14 hanno venito a questa opportunità. Loro venivano, e l'abbiamo utilizzato per un anno, questa era questa esperienza, mettevano le bavaglie, portavano i piatti, riconsegnavano i piatti, e per un anno hanno fermato la casa di fuono. E adesso mi chiedono sempre come sta quel nonno, come sta a quell'altro nonno. Un altro posto che ho fatto alla Tassa di Catechismo è, siccome io sono Ministro dell'Eucalistria, di affiancarmi nel servizio di inserguizione dell'Eucalistria da domenica in casa degli ammalati. E anche qui hanno aderito circa 8 ragazzi, che a doppia mi hanno disfaiato tutte le domeniche per portare l'Eucalistria. Secondo me che dobbiamo studiare anche la chiesa di un piano, per poter trasmettere il valore del servizio, della carità di una generazione. Secondo me uno degli sbagli più grandi che viene fatto nel Catechismo è quello di trasmettere solo la conoscenza di Dio su un unico binario. Mentre secondo me, vado un'altra cosa messa anche su un altro binario, che è quello del servizio e trasmettere già da l'Eucalistria del Catechismo. Cioè, per esempio, la produzione di un nonno potrebbe essere un'iniziativa. Oppure hai un nonno nella storia cominciare a visitarlo con una certa frequenza, insieme ai conceditori però. Cioè, secondo me mi deve studiare proprio delle nuove iniziative per portare già da piccoli alle nuove generazioni che il Catechismo è crescita della conoscenza di Dio, ma anche con un'esperienza. Sì, io credo che, grazie della sua testimonianza, che non possiamo che assecondare ciò che lei ha detto, ma a questo riguardo mi permetto soltanto una cosa. Partendomi il petto, credo che nella Chiesa si debba riscoprire veramente, al di là dell'efficientismo del quale siamo anche noi molte volte succubi, si debbano ritrovare i momenti di incontro. Quanta fatica, lo confesso, noi facciamo affinché la figura del prete, del sacerdote, oggi come oggi soprattutto nelle piccole realtà, trovi uno spazio o si ritagli dei momenti per andare a trovare i malati. La pastorale sanitaria, la pastorale nelle famiglie, è qualcosa di aleatorio purtroppo, scritto sui libri, ma non attuato in concreto. E credo che le figure degli accoliti, dei ministri straordinari dell'eucaristia molte volte possano diventare un alibi per far sì che il sacerdote demandi ai laici ciò che invece appartiene senz'altro ai laici, ma dove il primo esempio lo deve dare il pastore di una comunità. E quindi credo che anche a livello di pastorale spicciola, concreta, dobbiamo rivedere molte, molte, molte cose. Meno computer, meno macchina, meno progetti pastorali e più concretezza e attenzione alle persone. Riguardo poi a ciò che lei accennava, cioè dopo di noi chi ci sarà? Io porto l'esperienza dei volontari dell'Unitalsi, io seguo con frequenza sia gli operatori sanitari, medici, infermieri, fisioterapisti, ma anche i volontari dell'Unitalsi, soprattutto dei bambini disabili, eccetera, eccetera. Anche 15 giorni fa ero a Lourdes in occasione del peregrinaggio nazionale dell'Unitalsi e in particolare dei bambini disabili. Incontrando questi ragazzi giovani che seguono soprattutto i bambini disabili, anche gravemente disabili, riconoscevo molte volte questa affermazione. Io ho visto da mio padre ciò che lui faceva e quindi come potevo io non fare ciò che lui faceva? Cioè l'esempio attira. E allora io credo che non dobbiamo tanto preoccuparci di chi sarà dopo di noi. Io credo dal punto di vista numerico o come strategie per ammaliare queste persone. Nella misura in cui siamo veri nella nostra testimonianza, saremo capaci anche di attrarre in questo vortice di amore, di generosità, di solidarietà le persone che sono al nostro fianco, a partire proprio dalle famiglie che condividono con noi lo stesso tetto. Questo è stato anche per me una sorpresa, ma posso assicurarvi, molti di questi ragazzi e ragazze, non soltanto infermieri o quant'altro, ma anche semplici ragazzi universitari o che vanno in campagna, non c'è nessun problema, dicevano io ho visto mio nonno indossare la divisa che oggi io con onore porto. Quindi la testimonianza, la fedeltà a questi impegni diventa trainante e quindi credo che nella misura in cui siamo autentici, veri, nel nostro servizio del volontariato con l'Avis, con l'Aido, con l'Unitalsi, con tutte queste forme di associazionismo gratuito, lì veramente noi abbiamo una carta vincente per aggregare a noi, alle nostre associazioni, molte altre persone. Sì, era la signora Agosti forse. La signora? No, forse. Prego, dopo c'è il signore qui. No, 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 faccia, faccia. Prima parlava delle famiglie, ovviamente aveva avuto la legenda mamma e se avevano i sette fratelli e avevano i figli. Non è come quanto le famiglie esistono sulle colate, le famiglie che fanno pochi figli, magari fanno un figlio solo, si ammala il ceritone, deve lavorare, e questo è il problema dell'assistenza agli anziani, che si ha un pochi figli e poi si deve lavorare. Io sono d'accordo, quando però parlavo della famiglia, è il rapporto che i familiari devono avere con la struttura dove l'anziano è. Cioè sono d'accordo anch'io che ci devono essere dei centri sociali, ci sono, a Cremona ce ne sono tantissimi, anche al mio paese c'è un centro sociale dove la gente va, gioca a carte, per cui... C'è bisogno di assistenza, ma può dare... Ecco, se ha bisogno di assistenza e quindi deve essere ricoverato, nel momento in cui viene ricoverato, il sostegno della famiglia non c'è e non c'è nemmeno il sostegno della comunità. Quindi io mi riferivo a questo, però sono d'accordo con te nel dire che bisogna fare in modo che dal basso che dà la comunità nasca una rete di sostegno che lo accompagni fino alla fine. Se posso aggiungere una cosa, abbiamo sentito in questi giorni, penso abbiate sentito anche voi, il Monsignor Galantino, il segrestario generale della CEI, scagliarsi contro il governo perché al di là di tutte queste chiacchiere un po' vuote che si sono fatte sui temi del Sinodo, a proposito o a sproposito, forse più a sproposito che a proposito, il tema centrale al quale anche lo Stato deve fare riferimento è una seria politica familiare, allora perché non si fanno figli? Perché li dobbiamo avere al top tutti i firmati, dobbiamo avere un tenore di vita che deve essere X, Y, Z. Se invece la famiglia ha degli incentivi, ha delle possibilità, è custodita anche dal punto di vista dell'attenzione da parte dello Stato, dal punto di vista di agevolazioni fiscali, agevolazioni abitative e quant'altro, allora ecco che lì viene la voglia anche di fare figli in più, senza pensare che ogni figlio mi costa X, Y, Z e quindi c'è questa maggiore disponibilità e quindi si aprirebbe anche questa barriera che molte volte è condizionata quasi esclusivamente da un calcolo economico e non invece dagli affetti. pensiamo quante volte prima di avere un figlio in tante famiglie non si pensi quanto ci viene a costare, quanto dobbiamo diminuire le nostre garanzie sociali, le nostre possibilità economiche di svago e quant'altro e invece il nostro affetto, il nostro amore lo mettiamo in terza, quarta e quinta posizione, allora se anche lo Stato improntando una seria politica finanziaria di attenzione, di tutela della famiglia, in questo modo qui lo Stato potrebbe essere il primo motore per rimettere in movimento anche una possibilità in più per allargare queste famiglie che hanno un figlio e un quarto e quindi avere la possibilità di mettere al mondo anche due o tre figli e quindi trovare una soluzione anche a quei problemi così numerici che poi soprattutto al termine della vita, nel momento dell'anzianità tornano a galla con estrema virulenza. Lei ha parlato che la famiglia non è nascita, non è forse perché da troppo tempo si parla solo di diritti, quindi anche i giovani che si sposano continuano a mantenere i diritti, e faccio un esempio, cioè una cosa fatta, mia figlia qualche anno fa aveva fatto catechismo e avevamo bisogno di parlare con le mamme e decidere il giorno, e un po' di bambini e dissero, mai, perché quel giorno lì è sacro per mia mamma, cioè stabilito perché bisogna uscire una sera uno, uno sera l'altro, sta male il bambino, da qui vengono tutti i problemi, magari la discussione interna della famiglia, dimenticando che quando due si sposano avranno dei doveri, dei confronti l'uno dell'altro, dei confronti dei futuri figli, avranno il dovere di pensare a quando saranno grandi, andranno allo superiore, andranno all'università, trovavano assistere nella guida di alcune foglie sempre nel mondo del lavoro e dire, ma ce l'andrò a lavorare, non mi piace, tu vai a fare questo e si sente un posto migliore, quindi sta a casa. C'è poi la cultura che, fra anche il greco diceva il signore che ha detto prima, ma pensiamo solo a due o tre giorni, non stasera, domani, dopo domani, non pensiamo un po' più in là, può accadere uno piccolo disgrazia, dovrò prepararmi anche al futuro della mia vita, e arrivare a una certa età uno deve cominciare a capire che deve anche prepararsi a questo momento, far capire ai figli che purtroppo il passo del papà o del non si trattano e quindi se vogliono camminare insieme devono lamentare, e il genitore deve capire che a un certo punto dovrà passare anche un po' di libertà e il figlio è in i punti, cioè pur nel dialogo corretto che ci deve essere, non solo, è un problema culturale, ma dietro questa grande parola che dice tutto e dice niente stanno i valori, quali valori reggono la nostra famiglia, la nostra vita individuale e collettiva e laddove vediamo queste deficienze dobbiamo forse batterci un pochettino il petto e recuperare questi valori che sono importanti, essenziali. Credo che quel patto intergenerazionale al quale facevo riferimento possa costituire uno di questi arricchimenti e la persona anziana con tutto il vissuto che ha sperimentato può senz'altro essere un crogiuolo, un deposito di questi valori da trasmettere e da infondere alle nuove generazioni. Certo è difficile oggi come oggi, ma non dobbiamo demordere, credo che la parola che dovremmo conservare dopo questo incontro non sia quella della depressione, ma quella della speranza, cioè pur con tutte le difficoltà che ci sono, la vecchiaia, la persona anziana è portatrice di speranza, perché lui per primo ha vissuto tutto il travaglio in esistenza nella gioia e nel dolore, nella difficoltà e nella speranza e quindi oggi offre alla nostra società un vissuto pieno e compiuto e quindi essere motivo di speranza non soltanto per sé, perché ha vissuto bene e continua a vivere bene finché il Signore gli darà vita, ma al tempo stesso può essere un lume in questa oscurità che molte volte rischia di avvolgere tutti quanti, mentre invece queste luci ci sono e credo che le persone anziane possano nella nostra società essere veramente questo faro di speranza per le nuove generazioni soprattutto e quindi essere motivo di un guardare in positivo piuttosto che un guardare in negativo, anche se come dicevo e abbiamo verificato i problemi non mancano, anzi aumentano sempre più, ma non sono tanto grandi, tanto da offuscare del tutto e ancor meno spegnere questa speranza che proprio la persona anziana custodisce in sé e testimonia proprio con la ricchezza degli anni che ha accumulato e che affida alle nuove generazioni. Don Fuglio, il nostro parroco. Il parroco è stato dato quando sono diventato pretendo che ho preso il titolo, perché ero anziano. Per la saggezza. Non sono anziani. No, capisco questo perché il problema è che nessuno si sente anziano. Cioè sono anziani perché quando accadde il poso non sono diventato attraverso. E allora ci manca però la prima figura dell'anziano, che comprende anche quelli, ma senza fiduciare la realtà. Cioè se manca la fatica addirittura a diventare adulti, perché diciamo che tante volte siamo presentati sempre nel suo voto, i centri, figuriamoci a diventare anziani. E quindi sarebbe qualche rischio quello che deve legare la realtà dell'anziano veramente soltanto a quelli che hanno a casa di riposo. Cosa vuol dire allora che a un certo punto uno dica non solo semplicemente un adulto, ma solo un anziano. Perché è il tuo società chiaramente difficile riuscire a recettivare questa presenza. La presenza, per cui quando si dice di questi ragazzi che vanno a limite anche alla casa di un popolino, questi potrebbero essere chiamati anche anziani. Cioè è uno che si prende la responsabilità, che condivide a un genuto l'esperienza, che è l'altra sua, cioè che si sente capace, o c'è un altro punto di fare qualche cosa. Perché altrimenti il rischio è che davvero rileviamo la cultura dell'anziano alla casa di riposo. Però ci manca la vera figura poi dell'anziano che comprende anche per te, ma non deve dimenticare questi. E quando è che uno allora diventa anziano, perché ci siamo, credo che nessuno abbia voglia di sentirsi anziani. Tutti adulti, ma adesso sono anziani. Quando dici che sei anziano, si dico con gli altri. Diciamo allora che essere anziani significa aver accumulato la saggezza del cuore. Quella pienezza di vita che sa far vedere le realtà positive o negative con un certo distacco e con una certa maturità. E quindi sa affrontarle in prima persona senza derogare o demandare a terzi ciò che invece a ciascuno di noi compete in prima persona. Questa è la persona adulta e ancora più la persona anziana che ha maturato più esperienze in questo senso. No, 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 sono contento perché ho visto le suore molto attente. Poi non ho mai visto tante suore così, per cui sono veramente contento. Molti amici li conoscono, però tante suore così non le ho mai viste. Bene, se non ci sono altri che vogliono intervenire, io ringrazio il padre Augusto Kendi e il dottor Walter Contini di essere stati presenti qui questa sera. E' stata una bella testimonianza, troviamo gli aspetti positivi e la speranza che ci avete dato e ringrazio anche voi per la vostra presenza. Grazie. 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 Grazie.